Non so se dipendono soltanto dal federalismo, certo c'è un dibattito sulla rappresentanza territoriale molto forte nel nostro paese. Il federalismo, diciamo lo spirito buono del federalismo, si innesta e tenta di dare una risposta proprio a questa esigenza dei territori di sentirsi sempre più rappresentati e di avere le amministrazioni anche più prossime, più sussidiarie come si dice in questi casi. Anche nel mezzogiorno ovviamente questo dibattito c'è, noi siamo pronti ad accogliere questo spirito buono del federalismo, quello di rafforzare un po' di più e un po' meglio il rapporto tra cittadino e amministrazione rendendo questo rapporto più trasparente, più fluido e noi speriamo anche fuoriero di ulteriori possibilità di rendere l'amministrazione più efficiente e anche più efficace sulle azioni di sviluppo.